Io dell'LSG, vediamo quella mia, chi la pre-proletti, prendiamo e sconforziamo la nonna anche così, e si sconvolgerà pure la razza insieme lì. Anche l'Avo, come la, se il contatto con il corso già, e sbaglò così farà, e l'orina con l'Utà. Anche l'Avo, come la, se il contatto con l'Utà, e l'orina con l'Utà, e l'orina con l'Utà.